Non solo design seducente, comfort e allestimenti pregiati, DS3 Crossback è punto di riferimento nella categoria anche per le dotazioni di sicurezza, tecnologie di prossima generazione che la casa ha voluto offrire già su un modello compatto. In evidenza il sistema DS Matrix LED Vision, che fornisce l'illuminazione ottimale nelle differenti condizioni senza infastidire gli altri veicoli, mentre l'Active Safety Brake ha il compito di intercettare auto, moto, ciclisti e pedoni sia di giorno che di notte evitando gli impatti. In autostrada il Drive Assist consente di mantenere automaticamente la traiettoria scelta, il Lane Positioning Assist evita lo spostamento di carreggiata, l'Advanced Traction Control favorisce la motricità sui terreni difficili, l'Ill Assist le partenze in salita. Head-up Display e ConnectNab supportano il guidatore nel controllo dell'auto e nel monitoraggio dei percorsi. Con Conscious Connection, in collaborazione con il design francese Egon Lab e lo studio di ricerca e innovazione britannico Post Carbon Lab, DS propone un progetto al centro della filosofia Future Craft, l'alleanza tra il know-how artigianale e la creazione di materiali innovativi per supportare una visione sostenibile del lusso del futuro. Conscious Connection è composta da un bomber, due t-shirt e un trench, che hanno la capacità di assorbire CO2 e rilasciare ossigeno. Questa capsule collection è stata presentata come parte dell'edizione Moda Donna Autunno-Inverno 2021-2022 nell'ambito della Settimana della Moda di Parigi, di cui DS è partner ufficiale.